Ciao da Avsim! Il titolo di questo video vi sembrerà un po' eccessivo, forse provocatorio, sicuramente non è a chiappa like, perché è veritiero e purtroppo le dichiarazioni di Allegri post Juventus-Lecce 2-1 sono state minimizzate, ridotte, marginalizzate alla risposta di Allegri a De Laurentiis, che tra l'altro è stata riportata in maniera inesatta da parte di qualcuno e quindi sui social è partito il come gasa max, ma come gasa perché ha spento De Laurentiis, in realtà Allegri rispetto a De Laurentiis dovrebbe un attimo spiegarci se è vero quello che dice il presidente del Napoli sul fatto che lo aveva cercato ma fintamente, Allegri non ci dice neanche, non ci ha mai detto neanche che abbia mai parlato con De Laurentiis per diventare il nuovo allenatore del Napoli e che lui sia andato quattro volte, tre volte, quello che sia, alla Fil Mauro a dargli lezioni di calcio, questo diceva De Laurentiis, Maximović diceva se il Napoli fosse andato in Champions a fine stagione 2021 sarebbe stato Allegri il nuovo allenatore del Napoli e su questo Allegri non ci dice niente, dovrebbe rispondere su questo, magari giusto per chiarirci qualcuno dovrebbe chiedergli su questo, invece gli hanno chiesto in conferenza stampa cosa pensa di De Laurentiis che dice che avrebbero potuto vincere altri scudetti perché in effetti gli scudetti che il Napoli avrebbe dovuto vincere secondo De Laurentiis li avrebbe vinti tutti a discapito della Juventus, dove di Allegri ne parlavo ieri 15-16 sostanzialmente e 17-18, poi il Napoli ha fatto secondo con Ancelotti anche nella 18-19 ma lì il divaio fu enorme quindi se ne discute ben poco ma non ha risposto come appunto vi è stato detto a De Laurentiis ma soprattutto la domanda finale del giornalista della stampa che spesso fa domande un pochino controverse, un pochino difficili è stata una risposta da parte di Allegri che riguarda il suo futuro e quindi andiamo a vedere quelle che sono state le sue dichiarazioni, poi per quanto riguarda i tweet di Lapo Elkan ci vediamo sul mio secondo canale Absimaut, primo link in descrizione per accedere al secondo canale per video brevi sul calcio e anche su questioni diciamo extra calcio perché ieri Lapo ha tweetato in maniera decisiva e determinante per quella che è la situazione, per quella che è la nostra comprensione dei fatti sulle vicende della Juventus e siccome Allegri ha parlato anche di società, dirigenza, direttore sportivo e futuro perché la domanda era su quello, poi ci agganciamo quindi con diciamo lo spin off di questo video sul mio secondo canale per quello che Lapo ha detto anche rispetto alla dirigenza, quindi vediamo che cosa ha detto Allegri poi per quanto riguarda ulteriori contenuti di campo e quindi tattici su Givento Slecce, vi rimando al prossimo video calcio con la M su questo canale e quindi iscrivetevi e attivate la campanella delle notifiche per non perdere i prossimi contenuti e dopo la lettura delle dichiarazioni di Allegri a Dazon e in conferenza stampa faccio alcune considerazioni, anzi pure nel mentre, insomma il mio classico commento alle parole di Allegri che ha detto innanzitutto naturalmente fa star male vedere De Sciglio che si è rotto il crociato, è stato Allegri ad annunciarlo ma poi è uscito in contemporanea anche il tweet, il comunicato della Juventus, auguriamo il meglio a Mattia, si dovrà operare, speriamo che rientri il più presto possibile, a 31 anni può ancora giocare a calcio, certo per il 2023 il calcistico di De Sciglio è sostanzialmente finito, se ne riparla nel 2024, dico magari cinicamente è un peccato perché sarebbe stato utile avere De Sciglio sano, in forma anche per decidere del suo futuro, invece chiaramente così viene preclusa la possibilità anche alla nuova dirigenza di decidere magari di vendere De Sciglio, ora mi direte ma cosa pensi a venderlo che si è rotto il crociato, mi dispiace che si è rotto il crociato, però poi oggettivamente non possiamo disconoscere che una conseguenza di questo è il fatto che non puoi vendere De Sciglio quest'estate se l'avessi voluto fare, magari non lo volevano fare, non lo vogliono fare, però volendolo fare non lo puoi fare, devi aspettare gennaio o addirittura un'intera stagione, quindi De Sciglio resta alla Juve almeno un altro anno. Il ragazzo si era ripreso, stava bene, aveva fatto anche una buona partita dice Allegri, purtroppo è andata così, avrà tempo per riprendersi e per tornare a giocare. Allegri molto contrito da questo punto di vista, ma ci sta il punto è che Allegri è sembrato ben poco sereno e allegro anche per quanto riguarda gli altri argomenti, il resto delle dichiarazioni, eppure parliamo di una vittoria. Quindi che cosa bolle in pentola, che cos'è questo clima un po' poco disteso, questo clima un po' teso e questo nervosismo che continua da giorni, e dice Allegri, devi chiudere la partita, dobbiamo chiudere le azioni, dobbiamo fare gol, ne abbiamo avute tante di occasioni e le situazioni nell'ultimo passaggio sono state sbagliate. Quindi quello che dice da ormai due anni, si va avanti così, si sbagliano le scelte di ultimo passaggio, si sbagliano le ultime giocate, si sprecano le occasioni e ogni partita Allegri sta lì a dire la stessa cosa, dice dobbiamo migliorare, poi non si migliora mai. Il Lecce è una squadra rognosa, tecnica, che gioca in velocità, che ha messo in crisi tutti i suoi avversari, c'era stato il rischio di pareggiare, ma non abbiamo fatto gol dopo il gol di Miretti e quindi abbiamo rischiato, difensivamente abbiamo concesso troppo dal niente e quindi bisogna migliorare. Insomma un disastro, cioè sbagliate le occasioni, ha rischiato di pareggiare, concesso troppo dal niente, cioè proprio gli ha regalato le occasioni, un disastro, un disastro, ma non lo si dirà. Bisogna migliorare, bisogna migliorare tantissimo, diciamo quasi infinitamente, ma va bene così. Poi su Vlaovic, chiaramente su Vlaovic Allegri non può essere tanto sereno perché Vlaovic è la sua nemesi e qui dice ha fatto un gol straordinario e viene da chiedersi a com'è, com'è che Vlaovic non sapeva stoppare la palla, è un giocatore scarso, Allegri dice non è che adesso è diventato scarso e dicendo non è diventato scarso sta dicendo che è scarso perché tu non dici scarso così, cioè è un accostamento di due parole che purtroppo suggerisce quell'idea lì. Invece ha fatto un gol straordinario, ma in realtà ha fatto un gol normalissimo per quello che dovrebbe essere Vlaovic, a dirla tutta, e dice ha finito la partita increscendo in campo aperto nel duello corpo a corpo. Ha finito increscendo nel duello corpo a corpo, ma Vlaovic non lo dovrebbe neanche fare. Avete mai visto Holland fare un duello corpo a corpo? Sì, e quante volte ha partita? Cioè Holland viene, che tra l'altro ieri, ma come era prevedibile, ha messo il nuovo record di gol nella stessa stagione di Premier League, alla sua prima stagione di Premier League, ma insomma, ma questo non è merito di Guardiola, naturalmente, perché Holland è fortissimo e tra l'altro Vlaovic è il secondo miglior attaccante, il miglior giocatore nato dopo il 2000 per numero di gol totali nei principali cinque campionati europei, questa è un'altra statistica. Quindi c'è Holland e poi c'è Vlaovic in Europa, però, come dice proprio adesso Allegri in queste dichiarazioni, Vlaovic ha iniziato a giocare a calcio da poco, perché capite? Questo è il livello. Il duello corpo a corpo, che significa praticamente svilire e distruggere il talento di un ragazzo, sono contento per lui, ma si è dovuto scontrare con la realtà di un'esperienza con cui non si era mai scontrato, perché è arrivato dalla Fiorentina dove era tutto bene, tutto bello e mai un intoppo come un momento del genere che faceva fetica a segnare, ma succede nella carriera di ogni giocatore e doveva rimanere sereno perché le cose potevano cambiare. Allora, innanzitutto la mancanza di rispetto totale alla Fiorentina. Allegri mancanza di rispetto totale alla Fiorentina. Quindi se ci sono tifosi della Fiorentina, cittadini di Firenze e provincia, dirigenti della Fiorentina, l'allenatore e i giocatori della Fiorentina, che si indignino in ascolto, indignatevi, perché Allegri vi ha offesi, Allegri ha offeso la Fiorentina e l'ha fatto peggio anche in conferenza stampa. Che vuol dire che alla Fiorentina è tutto bene, è tutto bello e non ci sono intoppi? Che vuol dire che la Fiorentina è un campo fiorito? Che alla Fiorentina è una squadra che alla fine non conta? Dopo in conferenza stampa lo dice anche meglio. E poi perché, anzi paradossalmente, perché alla Fiorentina va tutto bene e alla Juve no? Perché, ecco, è capitato questo intoppo, ma che cos'è questo intoppo? Qual è l'intoppo? Allegri? Forse l'intoppo si chiama Allegri. Forse l'intoppo di Vlaovic si chiama Massimiliano Allegri. Pensiamoci, pensateci, magari, ma dopo lo dice anche meglio. Poi Paredes, l'altra nemesi di Allegri. Sono contento per Paredes, che ha fatto una partita importante davanti alla difesa. Allegri parla ancora di centravanti, davanti alla difesa. Terzino, non si è evoluto minimamente. È stato equilibrato rispetto a tempo fa che andava troppo in giro per il campo. È la stessa cosa che diceva di Artur. Ma io mi ricordo Paolo Sousa. Io mi ricordo Paolo Sousa con la Juve di Lippi. Andava a giro per il campo di continuo, ma sapete perché? Perché stava sempre attaccato alla palla. Ma come fanno tutti i registi? Lo fa oggi anche Lobotka. Lo fa Modric. È sempre dov'è il pallone. È sempre dov'è il pallone. Non si distacca mai dal pallone. Questo significa andare a giro per il campo. Proporsi sempre, offrire sempre la linea di passaggio a tutti i centrocampisti, gli attaccanti, gli esterni, i difensori, il regista. Ma lo faceva anche Pirlo. Che significa andare troppo a giro per il campo? Serve equilibrio. Allegri ha bocciato Artur per questo motivo e non gli piaceva Paredes per lo stesso motivo. Che in realtà significa giocare bene a calcio. Giocare bene a calcio. Ma dobbiamo insegnarglielo noi, con i milioni che prende? Qui non è una questione ideologica. È una questione di incompetenza. È una questione di disconoscenza, di disconoscere il calcio per quello che è. Andava troppo a giro per il campo. Ma buona partita di tutti. Bonucci, la terza nemesi di Allegri, partita importante ai suoi livelli. Oddio. Bonucci ha fatto un paio di salvataggi. Dopo lo dice anche perché Bonucci ha giocato bene. Il che ci apre un mondo su come è andata la partita per chi non l'avesse guardata. Insomma, Bonucci è stato abbastanza difettoso, ma abbastanza difettoso soprattutto nelle impostazioni. Bremer ha finito stanco, ma ha giocato dei buoni palloni. Io mi ricordo solo dei lanci nel vuoto da parte di Bremer. Dei lancioni disperati senza senso. Ma magari avrò visto un'altra partita. Può fidarsi dei suoi buoni piedi, Bremer. Può fidarsi dei suoi buoni piedi. Il problema è quando viene messo sotto pressione. È troppo ribassato. Deve fare l'impostazione lunga, che è difficile per tutti. Pure per Pirlo era difficile, per quanto gli sembrasse fai. Figuriamoci per Bremer, ma va bene. Giocatori messi nelle peggiori condizioni. È una vittoria meritata, non sono d'accordo, al massimo la Juve ha meritato il pareggio, contro un ottimo Lecce. Chissà come mai. Chissà come mai il Lecce è stato ottimo. Non sapevamo più come esultare dopo un mese e mezzo senza vittoria. Aspetta, ripeti la Max che la prossima volta che la dici rido meglio. Mamma mia. Poi, ultimamente abbiamo sbagliato troppo davanti. Dobbiamo migliorare. Non possiamo tenere aperte le partite. Perché nel calcio di oggi basta un angolo, una punizione. Poi c'è stata la sfortuna di Danilo che ha preso il palo. Ma ultimamente si è sbagliato troppo. Cioè, in realtà, questa Juve di Allegri, Bis, è andata alla grande. Devo dire, è proprio una Juve straordinaria anche la scorsa stagione. Cioè, proprio solo ultimamente, solo ultimamente si è sbagliato troppo. Invece, prima, la Juve segnava tantissimo. Sono valanghe di gol, no? Infatti lui, ripeto, non sta dicendo da due anni che si deve migliorare sulla fase offensiva. Gli scontri diretti sono belli. Dobbiamo essere bravi e lucidi perché adesso ci gioca con l'Atalanta. Dobbiamo riprendere le energie e sfidare l'Atalanta. Ma dobbiamo fare soprattutto un tot di punti. 72-73 è difficile uscire dalle prime quattro. Quindi con 72-73 dovresti rientrare nel quarto posto. Domenica, quindi, è uno snodo importante. Perché faremo, saremo più o meno, sapremo più o meno a che quota ci sarà la qualificazione da Champions. Perché c'è anche il doppio sconto, cos'è? Roma contro Inter, Lazio contro Milan, mi pare. Quindi sfide veramente importanti con il Napoli ormai, probabilmente oggi, campione d'Italia. E la Juve con l'Atalanta. Quindi tutti scontri diretti. Sarà veramente una domenica folle. E la apre la Juve proprio con la partita delle 12-30. Poi, i punti. Queste poi le domande su da solo. I punti, no? Non è che gli chiedono. Per esempio, io, se ieri fosse stato un giornalista a fare una domanda, gli avevo chiesto per quale motivo, quando a un certo punto, nel primo tempo, il Lecce ha recuperato un pallone ed è andato a contrattaccare, siete collassati tutti quanti in area di rigore. Poi il Lecce ha perso palla e non c'era nessuno per fare una ripartenza. Al che il Lecce ha recuperato il pallone con totale tranquillità nella propria metà campo e ha continuato ad attaccare. Perché correte tutti all'indietro, vi accartocciate e non sapete ripartire? Per esempio, eh. Oppure perché non riuscite a fare... Non andate proprio a fare una riaggressione feroce, immediata, per cercare di recuperare il pallone alto? Queste sono domande che si possono fare alla luce della partita di ieri, ma se le fai ti metti in difficoltà da solo perché sono domande difficili da pensare. Figuriamoci da fare. Poi Allegri non risponde. Poi non si può mettere in difficoltà. Max, quindi gli fanno le domande sui punti. 60 punti abbiamo fatto fatica ad rilevarci, l'ho detta ai ragazzi, domenica è stata difficile contro il Bologna che ha messo in croce tutti e rientrare nel secondo tempo dopo gli errori e dopo aver sbagliato il rigore non era facile e quindi è merito dei ragazzi che sono stati forti mentalmente. Pensate, per aver pareggiato 1-1 col Bologna che ovviamente ha giocato meglio della Juve come anche ieri in Lecce, sono stati forti mentalmente. Figuriamoci se avessero perso. Pogba, domanda su Pogba. È entrato bene, l'ho visto meglio, più fiducioso. Ieri gli ho parlato. Avrei voluto avere Pogba nelle migliori condizioni da inizio della stagione, ma è stata una stagione maledetta per lui. Eh, certo, è una stagione maledetta, ne voglio dire. Perché qui parliamo di esoterismo? Di che parliamo? Cioè, è una stagione maledetta? No, non ci sono delle cause e delle conseguenze? No, andiamo così per la sfortuna. Certo. Non è in condizione di giocare 90 minuti, lo sa anche lui. Miglioriamo il minutaggio, ma è importante come entra, perché nel calcio di oggi non importa se uno gioca 90 o 60, ma l'importante è entrare e determinare. Quindi calcio di oggi, Allegri si è svegliato al calcio di oggi. Non è importante che tu sia un crotalo o un pavone. L'importante è che se muori, me lo dici prima. Passiamo invece alla conferenza stampa. Siamo tornati, ha ripetuto un po' più o meno i stessi concetti, ma su alcune cose si è amplificato, diciamo. Siamo tornati alla vittoria dopo quasi un mese in campionato. Vlaovic, gol meraviglioso, ha finito increscendo negli spazi. Fisicamente è riuscito a sovrastare l'avversario. Mamma mia, Vlaovic che sovrasta l'avversario. Ma non avrebbe bisogno. Se tu Vlaovic lo servi nello spazio, anche nello spazio ristretto dell'area di rigore, di vicino all'area di rigore. Come veniva servito Iguain. Ma voi vi ricordate Iguain che faceva sportellate? Ma quando mai? Ma voi vi ricordate Iguain che sovrastava l'avversario e faceva il duello corpo al corpo? Ma quando? Iguain riceveva palla sempre libero di dribblare, di passare, di smarcarsi e di tirare. Sempre. Ed era Iguain di Allegri. Oltre che quello di Sarri. Quindi non stiamo parlando di chissà che. Perché Iguain, sì, e Vlaovic deve ricevere sempre spalle alla porta a centro campo. E viene esaltato perché sovrasta l'avversario. Ma cos'è il wrestling? La polisportiva. La polisportiva Max. Qui si gioca a cricket, a rugby, a corsa campestre. Si fa wrestling. Un po' di tutto. Quindi ringraziamo Max per aver trasformato la Juventus in una fantastica polisportiva. Dice non aveva avuto, qui ancora peggio sulla Fiorentina. Indignatevi Fiorentini, indignatevi. Non aveva avuto periodi brutti in carriera. Cioè di non riuscire a fare gol. Questo è stato un periodo lungo. E' andato in difficoltà. Poi ha avuto la pubalgia, sì, la pubalgia di Vlaovic. Ma servirà anche a lui per affrontare, se dovesse avere questo periodo simile in futuro, con più equilibrio. Perché è arrivato dalla Fiorentina dove è tutto bello, tutto simpatico e andava bene. Ma il calcio e la vita non è così. E' giovane. E' giovane, Vlaovic. 23 anni. E' giovane. Ed è la prima esperienza in un club importante come la Juve. Quindi, capite? Cioè la Fiorentina fa schifo, capite? Cioè il livello inferiore alla Fiorentina. Questo Allegri dice che la Fiorentina è inferiore alla Juventus. Ma non come Blasone, Palmares, perché ci potrebbe anche stare. Ma come livello di calcio che non ci sta assolutamente. Perché con tutti i suoi difetti la Fiorentina d'Italiano gioca dieci volte, ma cento volte meglio, della Juve di Allegri. E lo dimostra proprio. Vlaovic è proprio la prova definitiva. Ma tanto Vlaovic se ne va. Al Bayern Monaco. E questo gol meraviglioso, straordinario, quello che sia. Gli varrà un bel biglietto per arrivarci prima, per arrivarci meglio. Però, è colpa della Fiorentina che non ha forgiato Vlaovic alla difficoltà della vita. Cioè, questa Fiorentina non è formativa. La Fiorentina non è formativa, insomma. Ma si può andare avanti così. Eh, togliete i giocatori della Fiorentina e dateli a Max. Che è molto più bravo nel valorizzare. Perché gli fa conoscere la sofferenza. La sofferenza, quella sofferenza che è vita. La sofferenza è vita. E quindi, bisognava portarlo in una squadra seria. La Fiorentina evidentemente non lo è. Poi la squadra ha creato molto e ha sbagliato molto gli ultimi passaggi. Abbiamo sbagliato. Lui poi dice abbiamo, per far vedere che c'è anche lui che si mette in mezzo nelle critiche. Però, in realtà, critiche ai giocatori. Perché abbiamo, lui mica gioca. Quindi, abbiamo sbagliato, abbiamo. Per modo di dire. Tanti in campo vanno i giocatori e con loro se la prende. E quindi è importante creare. E poi il gol lo troviamo. Cioè, ma allora, non si trova. Creiamo tanto. Ma abbiamo sbagliato troppo. Però, l'importante è che creiamo. Perché tanto poi il gol arriva. Ma che strategia è? Ma che tattica è? Ragazzi, è l'unico allenatore, o che comunque attribuisce questo titolo, che parla in questo modo e non parla di calcio. Voi andate a sentire Paolo Sousa, Tiago Motta, Spalletti, Sarri, Juric. Andate a leggere, a sentire le... Palladino parlano di calcio. Gli unici che fanno cabaret di spettacolo sono lui, Murigno, chi altro c'è rimasto? Anche Inzaghi fondamentalmente parla spesso di tattica. Il nulla, totalmente il nulla. Però il gol lo troviamo. Il gol che aveva fatto Miretti era per centimetri. E che c'entra? È fuori gioco. Che vuol dire? Avevamo fatto gol con Miretti. No, perché poi sto leggendo. No, ma la Juve aveva segnato con Miretti. E vabbè, anche il Lecce aveva segnato con Sisai. Ed è stato annullato per fuori gioco. Eh, ma lì il fuori gioco era più netto. Che c'entra? Fuori gioco. Era comunque fuori gioco. E che vogliamo dire? Comunque lì l'azione però l'Ecce l'ha fatta. Come l'ha fatta la Juve. L'azione della Juve l'ha fatta. Bene, la registriamo, ma non è gol. Che vuol dire? Avevamo fatto gol. Cioè, allora, i ragazzi sono stati in partita concedendo poco su palle inattive. Amara consolazione. La soffere... Poi questo è bello. Questo è bello. Perché tanta soffere... Questa gliel'ha chiesta Giorgio Musso di Calciomercato.it. che non è un giornalista juventino, infatti segue più squadre. Gli ha chiesto perché tutta questa sofferenza nel finale. Oh! Perché si deve soffrire così tanto? Perché? Guardate la risposta di Allegri. Perché la sofferenza... Perché nel calcio per vincere bisogna soffrire. Cioè, capi... Cioè, io... Già ieri quando l'ho sentita questo... Già ieri quando l'ho sentita questo ho detto... Però ero stanco, era tardi. Nel calcio per vincere bisogna soffrire. Perché... Per cui o chiudi 3-0 oppure diventa difficile. E allora perché non chiudi 3-0? Perché non chiudi 3-0 il primo tempo? 2-0 il primo tempo? Perché questa Juve non attacca? Non travolge? Non domina l'avversario? Perché deve sempre fare schifo? Perché questa... Questa mediocrità? Perché sempre galleggiare su questa mediocrità? Come galleggiano gli... Vabbè, avete capito? Chi è che galleggiano... Come galleggiano gli cose. Cioè, galleggiare nella mediocrità. Ma perché? Perché non puoi fare 3-0? Nel calcio per vincere bisogna soffrire. Ma ditele queste cose. Non riportate solo le parole che ha detto su De Laurentiis. Fate una bella grafica. Allegri, due punti, virgolette. Nel calcio per vincere bisogna soffrire. E traducetelo anche in inglese. Pubblicatelo anche tra i tifosi della Premier League. Vedete quanto ridono. O anche della Liga. O di qualunque altra zona dove si faccia calcio nel mondo. Fategli leggere che Allegri dice che nel calcio per vincere bisogna soffrire. Vedete quante risate si fanno tutti quanti. Invece di proteggerlo continuamente nelle idiozie che spara. Nel calcio per vincere bisogna soffrire. Ma quando mai? Ma quando mai? Nel calcio se sei mediocre soffri. Se sei debole soffri. Se vieni dominato soffri. Se sei forte non soffri. Fai soffrire gli altri. Nel senso che li metti sotto. Nel senso che attacchi. Che li costringe a difendere. Che gli fai pensare di subire. Li fai rischiare di subire. Come ieri è rischiato la Juve. Ma perché il Lecce ci deve dominare? Ma perché il Bologna ci deve dominare? Ma perché dobbiamo giocare peggio persino del Verona? Che vinciamo 1-0 immeritatamente. E poi guarda un po'. L'Inter del tanto vituperato in Zaghi vince 6-0. Ma perché tutto questo? Ed era Juve-Verona invece l'Inter-Verona-Inter. Pensate un po'. Ma mi devo calmare. Perché tanto tra poco se ne va. Pogba. Bene. Non l'abbiamo mai avuto. Avere le migliori condizioni per minutaggio. Che può dare. Già 30 minuti come stasera è un bel segnale. Una partita ogni tre giorni è importante. Entrare e determinare. Chiesa è entrato e si è dato da fare. Ha avuto una situazione importante in campo aperto. E si è reso utile alla squadra. Per quella situazione importante in campo aperto. Chiesa è stato distrutto sui social. È diventato scarso pure Chiesa. Chiesa da idolo. Adesso è diventato nemico. Perché mette in crisi Allegri. Come lo mette in crisi Vlavic. Ma quello è sempre così. Chiunque mette in crisi Allegri. Cioè chiunque manifesta i limiti tattici. E conoscitivi di calcio di questo allenatore. Diventa nemico della tifoseria. Perché guai mettere in difficoltà Allegri. Ma gli Allegriani sono così. Sappiamo. Non sanno argomentare. Non sanno discutere. Non sanno dibattere. Non sanno confrontarsi. Non sanno portare argomentazioni. Alle cose che affermano. Ma come d'altra parte Allegri stesso. E Chiesa lì probabilmente ha sbagliato. Ma è l'ennesimo errore di un Chiesa. Che è costretto a correre testa bassa in avanti. Perché quello gli dice l'allenatore. Appena recuperate palla. Correte in avanti. Sparati così. Senza guardare. Senza costruire. Perché non c'è costrutto. Perché altrimenti si perde palla. È chiaro che l'allenatore gli dice. Correte in avanti. Trattenendo il pallone. Perché se ve la passate. Perdete palla. E poi gli avversari ci contrattaccano. Questo è lo schema. Ormai è chiaro. Si va avanti così da mesi. Poi giusto. Giusta la vittoria di oggi. Paredes ha fatto una. No. Mi gusto la vittoria di oggi. Scusate. Mi gusto la vittoria di oggi. Paredes ha fatto una buona partita. Si è calato nel ruolo davanti alla difesa. Con molto equilibrio. Può solo migliorare in quel ruolo. Quindi significa che è scarso. Se può solo migliorare vuol dire che è scarso. Bonucci ha fatto una partita straordinaria. Ha salvato due gol. Su palla inattiva e su scivolata. Ora. Se Bonucci ha fatto una partita straordinaria. Ha salvato due gol. Quanto doveva finire la partita? Se Bonucci ha salvato due gol fatti. E il terzo l'ha salvato Szczesny. Il terzo l'ha salvato Szczesny. Mi pare proprio su Sisay. Su corner di testa. Un'incornata Szczesny. Grandissima parata. Quanto doveva finire la partita? Ecco. Quindi. Ha meritato la Juve di vincere? No. Evidentemente no. Lo ammette anche Allegri. Poi De Laurentiis. Si dice De Laurentiis appunto. Voleva vincere gli scudenti. Non ho niente da dire a De Laurentiis. Invece avrebbe ripeto da spiegare. Se è vera quella storia. Gli faccio i complimenti per uno scudento vinto. Strameritato. Per aver vinto uno scudetto strameritato. Dall'inizio alla fine. Dall'inizio ad oggi. E che si goda questo scudetto. Perché è il primo scudetto. Quindi insomma. Dice. Eh Allegri gasa. Perché spegne De Laurentiis il primo scudetto. Quindi. Cioè. Ognuno a un certo punto vince il primo scudetto. Ma no. Cioè. Anche ammesso che Allegri abbia voluto sminuire De Laurentiis. Perché è il primo scudetto. Deve solo vergognarsi. Non gasa proprio nulla. Perché ancora una volta. È dimostrazione di essere perdente. E di mancare di rispetto. Di non saper perdere. E di non saper portare rispetto a chi vince. E quindi di mancare rispetto a chi vince. Gli consiglio. Anche se lui. Di consigli ne accetta pochi. Ecco. Se De Laurentiis gli consigli ne accetta pochi. È vera secondo voi la storia. Che è stato Allegri a consigliare Spalletti a De Laurentiis. No. Perché. Non dimentichiamo. Che Paolo Assogna di Sky. Pochi giorni fa. Ci ha rivelato. Che Allegri è stato lui. A dire a De Laurentiis. Prendi Spalletti. De Laurentiis ci ha detto. Che lui Spalletti l'aveva scelto. Già da anni prima. E da mesi prima. Per quanto riguarda il periodo 2020-2021. E noi invece dobbiamo sapere. Che a maggio. Aprile-maggio 2021. È stato Allegri a dire. A De Laurentiis. Prendi Spalletti. Poi però sentiamo Allegri dire. Che De Laurentiis. Di consigli ne accetta pochi. Quindi è vera la storia. Lascio decidere a voi. Perché lui. Al primo scudetto. Io al primo scudetto al Milan. E al primo scudetto alla Juve. Non me li scordo mai. Perché sono i primi. Per lui. Essendo il primo scudetto. Credo che debba godere. E fare tutti i festeggiamenti. In realtà non ho detto. Credo che debba. Ma ha detto. Credo che deva. Credo che deva. E poi ci lamentiamo di Lapo. Infine. Perché Allegri ha confermato. Perché Allegri ha confermato. Che sostanzialmente è out. Facciamo l'interpretazione. Anche se. Mi scuso. Che siamo arrivati così lunghi. Ma insomma. Allegri toglie sempre. Tempo ed energie. Andiamo quindi a spiegare. Che cosa ha detto. Con l'ultima. Praticamente l'ultima risposta. Gli hanno chiesto. Appunto il giornalista della stampa. Si parla del nuovo direttore sportivo. Quindi cambi in dirigenza. Lei cosa ne pensa? Domanda aperta. La sua opinione. E lui ha detto. Per quanto riguarda la struttura dirigenziale. Io sono concentrato sulle partite. E sul lavorare. Credo che dobbiamo essere concentrati. Sulle partite. E sul lavorare. Siamo un gruppo. Di lavoro. Che nelle difficoltà. Ci siamo difesi. Nelle difficoltà. Ci siamo difesi. Parlando di campo naturalmente. Abbiamo tenuto aperti. Tutti gli obiettivi. Falso. 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 Mai partecipato alla lotta a Scudetto. Usciti dalla Champions a ottobre. Falso. Tenuti aperti. Tutti gli obiettivi. Un cavolo. Vabbè. Abbiamo anche. C'è anche il merito. E c'è anche il merito di Cherubini. Di Federico Cherubini. Quindi. Nessuno gli aveva chiesto di Cherubini. Anzi. Gli hanno chiesto un nuovo DS. Quindi si intende che il riferimento è anche a Cherubini. Ma non per il lavoro che ha fatto Cherubini. Cherubini è inibito. Quindi. Al di là di come stia lavorando. È inibito. E serve un cambio. Quindi se Allegri va a sponsorizzare Cherubini. A difendere Cherubini. A proteggere Cherubini. Vuol dire che sta difendendo la sua parte. Ma non era richiesta questa affermazione. E quindi lui dice. È merito anche di Federico Cherubini. Che mi è stato accanto. Abbiamo lavorato insieme. E stiamo lavorando insieme. Perché l'obiettivo è arrivare in fondo. Facendo il meglio possibile. E fare il meglio possibile. Che poi voglio sapere. Cherubini. Oltre ad essere inibito. Mi callena. Quindi cosa c'è. Una volta che ha fatto la squadra. Che impatto ha Cherubini. Sulle prestazioni della squadra. Tendenzialmente nessuno. Se ne occupano Allegri. E lo staff tecnico tattico. Quindi sta cosa. Con Cherubini. Arrivare fino in fondo. Cioè. Non è che se la Juve vince. A merito di Cherubini. La singola partita. Al massimo per i giocatori che ha preso. Ma non per come sono stati allenati. Comunque. Poi. Attenzione. Quello che deciderà la società. Anche con il nuovo direttore sportivo. Io faccio l'allenatore. Sono l'allenatore. E a fine stagione. La società. Mi dirà. Quello che ha deciso. Quindi. Sostanzialmente. Allegri. Conferma. Che lui non ha alcuna certezza. Di rimanere allenatore della Juventus. E che tutto dipende anche. Dalla decisione sul nuovo direttore sportivo. Tra l'altro. Questa è praticamente la risposta. Che possiamo immaginare. La società abbia suggerito ad Allegri. Abbia dato ad Allegri. Abbia fornito ad Allegri. Dopo la sua sfuriata. Dopo la sua sbottata. Nella conferenza pre Bologna. Sabato scorso. Sabato 29 aprile. Pre Bologna. Juventus. Allegri dice. La società mi deve far sapere. Manca un mese e mezzo. Si deve programmare. Dobbiamo essere un gruppo granitico. Serve una squadra da scudetto. E quindi si lamenta. Della sua posizione. In relazione al suo futuro. Evidentemente la dirigenza deve avergli detto. Stai al posto tuo. Pensa al campo. Lavora con Cherubini. Perché vi ho detto. Questa è una società stratificata. Mentre prima. Erano tutti un po' allo stesso livello. Agnelli. Ned. Ed arriva bene. Scendevano sul campo. Cherubini. Paratici. Scendevano sul campo. Per vedere da vicino la squadra. E parlavano e parlottavano anche troppo. Qui invece abbiamo. Chi sta nell'iperuraneo. E chi sta sotto. Quindi ci sono. Ferrero e Scanavino. Inarrivabili. Che stanno in alto. Poi in mezzo c'è Calvo. Che prova a fare un pochino da tramite. Poi c'è il campo giù. Dove ci sono. Allegri e Cherubini. E pochi altri. Che vengono praticamente lasciati. Marginalizzati. Ma come è giusto che sia. Come è giusto che sia. Fare il loro lavoro. E quindi gli hanno detto. Tu sei al posto tuo. Pensa al campo. Per il momento sei confermato. Per il momento sei confermato. Poi ti faremo sapere. Prendiamo le nostre decisioni. Su di te. Su Cherubini. Su di te e su Cherubini. Se ne vanno tutte e due. Se ne vanno tutte e due. A fine stagione. Allegri e Cherubini. Out entrambi. E decidiamo sul nuovo direttore sportivo. Di cui non ti interessa nulla. Cioè anche questo. Allegri non sa nulla. Del nuovo direttore sportivo. E non è competente a decidere. Io sono allenatore. E faccio allenatore. Quindi quando leggiamo. Allegri sceglie il direttore sportivo. È falso. Quando leggiamo. Allegri non vuole Giuntoli. È vero. Ma lascia il tempo che trova. Allegri non vuole Giuntoli. Problemi suoi. Tanto Allegri se ne va. Ma non decide lui. Questo è quello che doveva emergere. Da questa conferenza stampa. Le offese alla Fiorentina. Le offese al calcio. E la realtà sulla sua posizione. Non le chiacchiere su De Laurentiis. Non Max si ritrova. Max. Come ha scritto oggi Gazzetta. Max. Max ha vinto. Max torna a vincere. Max ritorna. Max. Gazzetta che poi viene detta anti-Giuventina. Sì è anti-Giuventina perché esalta Allegri. E chi esalta Allegri è anti-Giuventino. Ma non perché vada contro la Juve. Come molti dicono. E quindi questa è la reale situazione. Un Allegri perfettamente consapevole. Perfettamente consapevole. Di essere sostanzialmente out. O quantomeno a voler essere proprio pessimisti. Per la prima volta. Per i primi giorni della nostra vita. In questa seconda esperienza. Di Allegri alla Juve. Non c'è più la certezza solida. Granitica assoluta. Della permanenza di Allegri. C'è anzi. Il grosso rischio. Fondata. Possibilità. Che venga esonerato. E questo è già. È un grandissimo passo in avanti. Un piccolo passo. Per l'uomo. Un grande passo. Per l'umanità. Un piccolo passo per la Juve. Un grande passo per tutti noi. Juventini. Grazie per la vostra attenzione. Buon dibattito nei commenti. Perché li riapriamo stamattina. Dopo averli chiusi precauzionalmente ieri. Dopo la vittoria della Juve. Like al video se vi è piaciuto. Iscrivetevi al canale. Attivate la campanella delle notifiche. Per non perdere i prossimi contenuti. Abbonatevi al canale. A partire da 99 centesimi al mese. Per tanti vantaggi. Soprattutto in live. E seguitemi. Come già detto. Sul mio secondo canale. Avsimout. Per video brevi sul calcio. E ci vediamo molto presto. Grazie. Grazie. Grazie.